E' un componente dei Modà, l'uomo arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di molestie sessuali su quattro minori. Siamo agghiacciati alla sola idea che sia potuto accadere quello di cui non abbiamo mai avuto sentore, è il commento del complesso. Le province non si arrendono al progetto del loro smantellamento. Secondo loro il commissariamento proposto dal ministro del Rio è incostituzionale e per questo presto ci sarà un ricorso. L'assessore D'Alfonso attacca la politica del governo. Vanno tutti col cappello in mano a Roma e ottengono soldi, mentre Milano è penalizzata e secondo le previsioni attuali mancano 100 milioni di euro. Meno rumore, meno inquinamento nei quartieri è l'obiettivo dell'assessorato di Pierfrancesco Maran che ha dato il via agli appalti per altre 8 zone 30 che tuteleranno pedoni e ciclisti. Buonasera e buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione, lo avete sentito dai nostri titoli. Paolo Bovi, l'uomo arrestato con l'accusa di molestie sessuali a quattro minorenni, è un membro della rock band dei Modà. Assieme al cantante e leader del gruppo Checco aveva fondato il complesso nel 2000. Sentiamo Stefano Fomagari. Una storia già sentita, quella dell'educatore che si trasforma in mostro e che cerca attenzioni dai ragazzini che dovrebbe tutelare. Questa volta però la storia si ingigantisce perché l'accusato del reato di violenza sessuale è anche un personaggio conosciuto negli ambienti della musica leggera. Paolo Bovi agli arresti con la misura cautelativa del braccialetto elettronico aveva fondato assieme all'amico Checco un gruppo musicale che poi sarebbero diventati i Modà proprio in un oratorio alla periferia di Milano nel 2000. Poi cambia ruolo e da tastierista diventa fonico della band con cui continua tutt'oggi a lavorare fino agli ultimi successi. Intanto però non smette di svolgere i suoi compiti di educatore insegnando anche a suonare la chitarra ai ragazzi. Ma le sue attenzioni e alcune voci di troppo arrivano all'orecchio del parroco che lo allontana dalla parrocchia. In seguito arrivano le denunce. Quattro ragazzini molestati secondo l'accusa nel 2011 tra i 13 e i 16 anni. Nessun rapporto completo consumato ma toccamenti, giochi, massaggi mascherati da penitenze in un'occasione anche in un campeggio in montagna. Siamo agghiacciati alla sola idea che sia potuto succedere quello di cui non abbiamo mai avuto alcun sentore. Speriamo che la magistratura concluda presto le indagini e che il loro esito non sia terrificante come lo è il loro avvio. Queste le parole dei Modà. L'uomo, un quarantenne incensurato, frequentava da anni la parrocchia, era conosciuto all'interno della cerchia dei frequentatori ed era rimasto legato al luogo assumendo nel tempo il ruolo di educatore animatore. Non si ferma alla vicenda dell'abolizione delle province. L'idea ormai di diversi anni fa, adesso c'è anche un progetto di legge ma ovviamente i presidenti di province non ci stanno. Questa mattina a Palazzo di Zimbardi si è tenuto il tavolo dell'unione delle province lombarde che dicono no al progetto del commissariamento proposto dal ministro del Rio. Dicono che è incostituzionale e per questo presenteranno ricorso. Sentiamo Massimo Scherizzi. Le province lombarde provano a resistere al disegno di legge del Rio in discussione in Parlamento che propone l'abolizione degli enti che saranno sostituiti da 20 città metropolitane. Questa mattina a Palazzo di Zimbardi si è tenuto il tavolo dell'unione province lombarde. I presidenti si sono riuniti per discutere gli effetti del provvedimento approvato dalla Camera e approdato ora in Senato. Il DDL prevede di svuotare le province di tutti i poteri in attesa della costituzione delle città metropolitane. Una decisione incostituzionale secondo i presidenti che non escludono la possibilità di presentare un ricorso. Questo ritengo che sia un fatto molto grave perché il testo unico sugli enti locali prevede delle motivazioni precise per le quali si commissariano gli enti previsti in Costituzione e la provincia è un ente previsto nella Costituzione così come i comuni, così come la Regione, così come lo Stato. Ebbene, questi motivi sono infiltrazioni mafiose piuttosto che buchi di bilancio o cose di questo genere. Non mi risulta che le 54 province che la legge finanziaria prevede di commissariare con una legge ordinaria quindi ovviamente con dei profili di anticostituzionalità evidenti siano in queste condizioni. I presidenti delle province lombarde alzano le barricate. Da un lato ritengono impensabile restituire in sei mesi da qui a giugno le deleghe ricevute dalle regioni durante un processo amministrativo lungo 15 anni. Dall'altro lato parlano di un aumento dei costi. Secondo il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, alcune ricerche presentate da Università Bocconi e Censis dimostrano che la scomparsa delle province non porterà un risparmio per le casse dello Stato. I dati che vengono presentati dai centri studi di cui parlavo prima, la Bocconi, il Censis, la Corte dei Conti dicono che le province mediamente sono le istituzioni più attenti, più parsimoniosi e che meglio gestiscono. Gli scandali li troviamo fondamentalmente nelle regioni. Regioni che del resto guadagnano molti più soldi dove circolano molti più soldi di quelli che circolano nelle province. Cambiamo argomento. È caccia aperta al misterioso acquirente che doveva ricevere ieri una partita di 13 cuccioli di cani di razza. Le immagini che vedete sono della Corriere della Sera. La polizia stradale ha fermato il commercio illegale durante un controllo di routine sull'autostrada tra Milano e Varese. Una Renault Megane guidata da un sessantenne trasportava nel bagagliaio i cuccioli senza precauzioni e senza cibo. Gli animali erano stipati grossolanamente in un metro quadrato con il rischio del soffocamento. L'autista denunciato è di Torino e ha già due precedenti per maltrattamenti e commerci illegali di animali. Gli agenti si sono insospettiti perché l'uomo alla guida dell'auto era apparso subito molto nervoso e per questo hanno deciso di approfondire il controllo facendogli aprire il bagagliaio. Sarà la procura di Busto Arsizio a stabilire la futura destinazione delle bestiole. Torniamo a Milano perché l'assessore al commercio Franco D'Alfonso ha tuonato contro il governo di Roma. A Milano siamo penalizzati, ha detto D'Alfonso, dai provvedimenti romani. Basta andare a Palazzo Chigi con il cappello in mano mentre Milano dovrà trovare 100 milioni di euro se i numeri della Tasi saranno confermati. Vediamo. Rivolta anti-Roma in salsa arancione a lanciarla è l'assessore al commercio Franco D'Alfonso che punta il dito contro il governo Letta per Italia e trasferimenti statali e la nuova Tasi, nuova Tassa sui servizi. La chiama a rivoluzione metropolitana D'Alfonso che vorrebbe Milano alla guida della protesta insieme alle altre dieci grandi città metropolitane italiane. Basta andare a Roma con il cappello in mano. Viaggi della speranza sempre infruttuosi. È tempo di cambiare rotta per Milano che da sempre ha guidato l'economia del paese e il cambiamento in Italia. Direi che è abbastanza chiaro a tutti che il sistema istituzionale che ci ha retto fino ad adesso mostra molto più che non l'accorda. Il sistema istituzionale che è basato su un accentramento di decisioni e risorse su Roma è una distribuzione attraverso il sistema regioni, province ed altre. Questo non funziona palesemente più. Alla base della protesta è il summit di sabato scorso, riunione in cui la Giunta Pisapia insieme ai consiglieri comunali e ai segretari di partito e ai presidenti dei consigli di zona ha tracciato la roadmap che porta alle elezioni del 2016 per provare a rimanere in sella a Palazzo Marino. Impensabile riuscirci approvando nuove e ulteriori tasse dopo le manovre su ATM e addizionale IRPEF. Da qui la chiamata alle armi di D'Alfonso che si appella al Premier Letta perché i sindaci italiani che per due terzi circa sono di centro-sinistra continuano a perdere consensi e popolarità in tutta Italia da Milano a Napoli passando per Genova. Da parte del Governo in questo caso si è privilegiato a torto o a ragione, il mio parere è molto a torto alcuni elementi, cioè la stabilità e il mantenimento, il fatto di essere là per le ragioni internazionali rispetto a tutto il resto. Cambiamo argomento. A meno di tre mesi dall'uccisione Milano di tre esponenti della criminalità a Quartogiaro e a due mesi dal caso di una scuola ostaggio di studenti bulli e spacciatori la polizia che il 5 dicembre aveva arrestato il presunto responsabile dei tre omicidi ha ottenuto un altro successo, ovvero un accordo con le scuole del quartiere per la presenza di agenti negli istituti della zona con controlli antidroga e incontri con gli studenti. Questa mattina c'è stato il Via con un gruppo di agenti del commissariato di Quartogiaro che sono entrati in accordo con il preside nell'istituto Marelli Dudovic. Un controllo effettuato anche con l'aiuto dei cani antidroga. Voltiamo ancora pagina, si è parlato anche del dopo-expo al primo consiglio nazionale del CONI che oggi si è svolto a Milano. Un'attenzione che è stata apprezzata dal sindaco di Milano Pisapia che già pensa a una cittadella dello sport. Sentiamo Stefano Fumagalli. Ci sarà un bando, ci fosse una cittadella dello sport andrebbe benissimo. Parole di Giuliano Pisapia, sindaco di Milano che intervenendo al consiglio nazionale del CONI oggi in via eccezionale in città è tornato sul tema del dopo-expo. L'importante è che il sito non venga cementificato su questo, c'è assoluta condivisione ha continuato il sindaco. Dopo i sei mesi di esposizione i vari padiglioni saranno smantellati e il timore è che l'eredità di Expo sia una grande voragine di cemento. Una cittadella dello sport con il progetto di uno stadio di calcio per Inter o Milan sarebbe una strada percorribile e virtuosa. Vincerà, aggiunto Pisapia, il progetto migliore. Per quanto mi riguarda, se in questo progetto ci fossero un campo sportivo e uno spazio dedicato alla musica sarei particolarmente lieto. È un evento importante, il fatto che il CONI abbia voluto fare dopo tanti, tanti anni il Consiglio Generale a Milano. Milano è orgogliosa di questo ed è orgogliosa soprattutto degli atleti italiani e anche quelli milanesi che saranno le Olimpiadi Invernali. Adesso voglio parlare, parlerò nei prossimi giorni con il Milan perché dobbiamo chiudere entro fine del mese la questione della disponibilità delle squadre milanesi a realizzare le nuove strutture in particolare lo stadio. Quindi siamo alla stretta finale come avevamo previsto. Oggi lo dirò al CONI che il nostro intendimento è realizzare lì nell'area Expo con la città dello sport, con lo stadio e altre strutture. Una cosa di cui ho già parlato col presidente Malagò. Cambiamo ancora argomento a proposito di sport però perché si avvia la riapertura al centro sportivo Ripamonti di via Iseo a Milano. Queste foto sono tratte dal sito repubblica.it che due anni fa subì un attentato mafioso. Sono partiti oggi infatti i lavori per la riqualificazione del palazzetto, il cuore del centro sportivo con la risistemazione della palestra dei locali. Tra 90 giorni l'impianto tornerà funzionante, utilizzabile per le competizioni ufficiali, rispettando l'impegno che il Comune aveva assunto nei confronti della città. Al bando per l'appalto dei lavori hanno partecipato 144 aziende. La vincitrice, la Studio 2SRL, interrerrà sulle strutture interne con il rifacimento della palestra principale e della palestra più piccola. Saranno riqualificati anche tutti i locali adiacenti con la creazione di spogliatoi, mentre la tribuna da 350 posti sarà risistemata e messa a norma, eliminando tutte le barriere architettoniche per l'accesso alle tribune e più in generale all'impianto. Inoltre saranno avviate le procedure per la risistemazione definitiva di parti del tetto e della facciata della struttura, lesionate dal rogo del 2011. L'importo totale dei lavori è 518 mila euro. L'Iseo per noi è un simbolo, un caposaldo della legalità, rappresenta l'impegno di questa amministrazione contro il rischio di infiltrazioni malavitose delle attività in città, a partire da quelle legate allo sport. Parole dell'assessore allo sport Chiara Bisconti, che ha ricordato che l'ultimo passo sarà la riqualificazione generale della piscina, che sarà completata entro l'anno. Ed è una schiarita in attesa sulla vicenda del CERBA, al centro ricerche biomediche, che dovrebbe essere costruito sui terreni del fallimento Ligressi, sempre in via Ripamonti a Milano. Il comune, che aveva stoppato il vecchio progetto perché è ritenuto troppo invasivo del Parco Sud, ha presentato nuove linee di indirizzo per un nuovo progetto e la fondazione CERBA ha dato la sua disponibilità. Sentiamo Alberto Carreras. Sembrava tutto sospeso, tutto in alto mare, invece, quasi a sorpresa, tra comune di Milano e fondazione CERBA si è riaperto il dialogo. Il CERBA, lo ricordiamo, è il Centro Europeo per la ricerca biomedica, un polo di eccellenze e avanguardia che dovrebbe essere realizzato in un'area di via Ripamonti a Milano, vicino al Centro Europeo di Oncologia del professor Umberto Veronesi. In commissione urbanistica, la vice sindaco, Lucia De Cesaris, ha messo nero su bianco una nuova proposta che rivede il progetto iniziale che era stato stoppato proprio da Palazzo Marino, una realizzazione da 1 miliardo e 220 milioni di euro su una superficie di 620 mila metri quadrati. Il Comune chiede che venga messa in atto una drastica riduzione dell'impatto urbanistico sul Parco Sud, sì ai centri di ricerca, ai laboratori, alle strutture sanitarie, no a residenze, negozi e centri commerciali. Abitazioni per ricercatori e studenti andrebbero costruite in un'altra zona al di fuori di quest'area senza gravare ulteriormente su quello che viene considerato il polmone verde di Milano e cioè il Parco Sud. Da parte della Fondazione Cerba il direttore generale Maurizio Mauri ha dato la disponibilità a rivedere il progetto. La volontà è quella di creare un'eccezionale struttura di ricerca accanto all'OIEO. Le speculazioni edilizie non ci interessano, ha sottolineato Mauri. In pratica gli immobili per medici, ricercatori e studenti potrebbero essere realizzati sull'altro lato di Via Ripamonti, su terreni provenienti dal fallimento Ligresti. Insomma, si tratta su un possibile compromesso che potrebbe mettere tutti d'accordo. Vanno risolti i ricorsi al TAR che erano stati presentati contro il comune dai soggetti in campo, Fondazione Cerba e curatori fallimentari del gruppo Ligresti, proprietario dei terreni. Via agli appalti per altre otto zone 30. Palazzo Marino infatti continua l'impegno per le isole lente in cui tutelare i pedoni e i ciclisti. Meno rumore e meno inquinamento nei quartieri. Vediamo. Zone 30 in altri otto quartieri. A Milano, Palazzo Marino ha dato il via agli appalti per le isole lente dove tutelare pedoni e ciclisti. L'obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza sulle strade insieme a una riduzione dell'inquinamento acustico e ambientale. I progetti prevedono una riqualificazione dell'ambiente urbano, dissuasori per le auto, castellane e sopralzi agli ingressi. Due milioni di euro in totale degli appalti. interventi concentrati soprattutto nelle periferie a Figino in via Silla nuova segnaletica emessa in sicurezza dell'area davanti a una scuola ad Ergano in via Paruta in via Vittorio Colonna in piazza Frattini rialzo delle soglie all'ingresso del quartiere e cartelli che invitano le auto a rallentare. Più strutturati invece gli altri tre interventi che vedranno un restyling profondo delle zone Melso Malpighi Muratori Colletta e via Caterina da Forlini. Soddisfatto l'assessore alla mobilità di Milano Pierfrancesco Maran le zone 30 si stanno diffondendo in tutte le principali città europee spiega garantiscono più sicurezza e incentivano l'utilizzo dei trasporti pubblici delle biciclette e gli spostamenti a piedi. Per la seconda parte del 2014 sono previsti poi altri quattro progetti di isole ambientali tra Corso Magente e Via Torino nella zona Solari Tortona a Baggio e intorno allo stadio di San Siro. Parliamo di opportunità di lavoro perché sempre più giovani laureati trovano un'occupazione grazie alla Cina questo è stato messo in evidenza durante la quarta edizione dell'Italy China Career Day organizzato dalla Fondazione Italia e Cina con Asso Cina e Asso Lombarda 16 aziende italiane tra cui Ferragam e Moncler hanno incontrato giovani neolaureati con altre competenze rivolte alla Cina con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel paese asiatico. Contiamo di riuscire a far trovare un impiego a quasi un terzo dei giovani candidati presenti oggi ha spiegato il presidente di Asso Cina sottolineando l'importante crescita delle imprese cinesi in Italia se nel 2000 erano solo 7 le imprese italiane partecipate da investitori cinesi nel 2012 sono salite a 133 per un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro con più di 5.500 dipendenti. Da immobile utilizzato dalla criminalità a condominio sociale destinato a famiglie in difficoltà precari e anziani questo è il positivo risultato di un progetto portato avanti dal comune di Milano nella zona di Chiaravalle diventerà un condominio sociale lo stabile sequestrato alla criminalità organizzata che si trova in via Sant'Arialdo 69 in zona Chiaravalle a Milano Palazzo Marino ha trasferito i mille metri quadrati di immobili e i 20 ettari di terreni circostanti appartenuti a un trafficante di stupefacenti calabrese a un consorzio di cooperative sistema imprese sociali con Arci cooperative a sociale La Strada e la Onlus Cicomendes questo consorzio ha ottenuto il punteggio più alto tra i sei soggetti che hanno risposto al bando di assegnazione sabato 25 gennaio sarà presentato il progetto vincitore nell'ambito del forum delle politiche sociali lo stabile verrà utilizzato per attività legate all'accoglienza di famiglie che versano in gravi difficoltà economiche lavoratori a basso reddito precari studenti e anziani con autonomia molto limitata insomma spazio alle fasce deboli della nostra società il comune di Milano vuole realizzare un condominio sociale partendo da esperienze già realizzate in città da associazioni no profit si punta a un mix di utilizzatori per scongiurare una possibile ghettizzazione anche i terreni circostanti verranno utilizzati con la valorizzazione dell'orto del giardino e la creazione di attività culturali il tutto immerso nell'importanza di aver recuperato un insieme di strutture un tempo gestite per traffici illeciti della criminalità e oggi invece sfruttati a fini sociali Palazzo Marino ci crede e ha investito complessivamente oltre 2 milioni di euro per dare vita a questa nuova realtà il contratto tra il comune e il consorzio avrà durata ventennale la notizia è arrivata ora Pierpaolo Brega Massone lo ricorderete l'ex primario della chirurgia toracica della casa di cura Santa Rita arrestato nel corso della vicenda della cosiddetta clinica degli orrori ricordiamo era stata confermata la condanna a 15 anni e mezzo di reclusione bene oggi è stato scarcerato in seguito all'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte della Cassazione quindi resta vale dalla condanna ma è stato scarcerato questa è l'ultima notizia adesso come al solito prima di chiudere vi anticipo invece i programmi della serata su Tele Nova perché a seguire a seguire il nostro TGN andrà in onda Nova Stadio con Michele Marchetti e i suoi ospiti e alle 23 invece andrà in onda Che Storie e l'ospite di questa sera sarà il sindaco di Milano Giuliano Pisapia con lui si parlerà della sua esperienza come educatore al carcere minorile Beccaria di giustizia minorile delle penne alternative al carcere e che cosa vuol dire gestire un'istituzione e che cosa offre Milano ai giovani tutto questo a partire dalle 23 noi ci vediamo invece per l'edizione della notte del TGN alle 24 con questo è davvero tutto vi ricordo che dopo la sigla e la pubblicità per chi desidera ci sono le previsioni del tempo arrivederci a partire a partire di un'istituzione